Ciao ragazzi bentornati, è vero, è un po' che non facevo video, è vero, colpa mia, è vero, ma sono tornato e oggi andiamo a parlare di un'altra penna wireless, ovvero della Tesla, della ditta Dynamic, che mi avete chiesto in tantissimi. Andiamola a vedere da vicino, ma prima... Guantino 1 e guantino 2. Così è come si presenta la Tesla, scatola in cartone, marchio Tesla, Dynamic, Tattoo Machine, dietro fa vedere già come è impostato il display della macchinetta e ci scrive che è importata e ha un anno di garanzia direttamente da Dormouse. La andiamo ad aprire e dentro abbiamo un adesivo della Dynamic, le dichiarazioni di conformità e le istruzioni e i dettagli tecnici. Noi troviamo la macchinetta e sotto cavetto USB per la ricarica, degli O-ring di ricambio e un appoggiamacchinetta, che non userò mai perché si inquinerà, quindi a poco serve. Intanto che siamo in ballo, vi faccio vedere anche il power supply della Dynamic, che si presenta così. Scatola si apre a slitta E dentro troviamo sempre istruzioni, dichiarazione e l'adesivo, questa volta non ce l'hanno dato. Dentro troviamo il power supply E sempre il cavo di ricarica USB E vi riporto insieme perché i display essendo uguali e il funzionamento identico mi sembrava sciocco fare un altro video con le stesse spiegazioni. Andiamo a vedere la macchinetta Macchinetta nera, opaca, con degli smussi per poterli impugnare per qualche motivo che non so Display Grip E vi posso dire che la macchinetta monta un motore giapponese da 4 watt Va da 0 a 11.000 giri Ha una corsa da 3.5 mm Il grip è regolabile fino a 4 mm Voltaggio massimo ovviamente 12 Pesa 204 grammi Ed è alta 110 mm E ha un diametro di 35 mm Il grip Si regola svitando e avvitando Ha delle tacche che tengono fermo il grip Questa cosa già ci piace ma lo sapete già A livello di costruzione sembra fatta molto bene È molto solida Ci piace Andiamo a vedere il display Ovviamente qua attacco per la ricarica Dove sul sito dicono che è possibile caricarla con qualsiasi cavo Però attenzione meglio caricarla con un caricatore da 1A Perché il 2A è un po' troppo Rischia di bruciare il circuito Quindi caricatore solo da 1A Si ricarica in 3 ore E ha una autonomia di 3 barra 8 ore Come si accende? Per accenderla basta tenere premuto il tasto power per qualche secondo La macchinetta ha un incremento di 0,10V per volta Volt per volta Col tasto on salgo di voltaggio Con il tasto off scendo di voltaggio Per metterla in stand by bisogna tenere premuto leggermente il tasto off E la inizia a lampeggiare e indica che è in stand by Per ripartire teniamo premuto sempre il tasto off Per spegnerla del tutto dobbiamo tenere premuto per qualche secondo il tasto off Funzionamento semplicissimo Questo è il power supply Adattatore che fa diventare wireless quasi tutte le macchinette Il funzionamento è esattamente uguale La dimensione è più o meno simile Il diametro è identico alla penna Il display è identico Il funzionamento uguale Tengo premuto E lui si accende Tengo premuto E lui si spegne Quindi funzionamento identico Però questa ha una batteria integrata E resta così com'è e si carica Questo invece è un power supply Che può una volta montato sulle altre macchine Renderle altre macchine wireless Ad esempio una dorm house pen Io posso montargli questo sopra La mia macchinetta diventa wireless Proviamo la nostra Tesla Accendiamo Questa era la Tesla E ora vi dico cosa ne penso Inizio col dirvi che questa macchinetta costa Quasi 500 euro Giusto per dirvi di cosa stiamo parlando Quasi 500 euro In questi giorni è scontata al 40% Quindi Non costa neanche 300 euro IVA inclusa Quindi 300 euro IVA inclusa Noi possiamo avere questa penna wireless Ok Non stiamo parlando di mille Quindi Questa è la macchinetta Mi è piaciuta? Sì mi è piaciuta Cosa? 6-8 ore 8 ore mi sembrano eccessive 6 ore le tira anche Quindi 6 ore io l'ho provata E sono arrivato tranquillamente A farmi 5-6 ore Poi dipende da quale ago monto Sul supply anche lì dicono Che dura 6-8 ore Però il supply Essendo che viene montato Su macchinette con motori Tanto diversi Bisogna vedere quanto assorbe il motore Quindi può essere che duri meno Come duri di più Quindi non si può dare proprio Un tempo di vita anche al supply Mentre la penna Visto che è calcolata Sul motore che monta Possiamo dire che si dura 5-6 ore tranquillamente Si ricarica in 3 ore Ok Mi piace il fatto che abbia Il grip a incastro Perfetto Dopodiché Parliamo di contro della macchina Cosa è meno rispetto alle altre? Allora sicuramente Non c'è la batteria che esce Quindi dopo X cicli di vita Lei incomincerà a perdere colpi Noi saremo obbligati A sostituire la macchina O a mandarla a Dynamica Che ci cambierà la batteria Quindi Ni Il fatto che non abbia il grip Mono uso È un'altra cosa Che non mi entusiasma tantissimo Quindi anche il grip Non mi entusiasma molto Mi piace che sia a scatto Ma il fatto che Che non abbiamo un mono uso Non mi piace tantissimo Il grip mi sarebbe piaciuto di più Che avvolgesse la macchina esternamente Invece che entrare dentro alla macchina Tipo appunto La door mouse pen Che ha il grip Che è sopra la macchina E non sotto Perché in questo modo Io posso impellicolarlo E magari anche un po' più alto Perché posso impellicolarmelo fin qua Ho la mia macchina bella coperta Fino a una certa altezza E posso girare comunque il mio grip Qua Se io vado a mettere Della garza Non posso più Avvitare il mio grip dentro Ovviamente posso impostarmelo prima Poi io non lo tocco più E va bene Però se fosse stato fuori E un po' più lungo Sarebbe stato più comodo L'ultima cosa Che non mi entusiasma molto Di questa macchina A parte che fa un po' di rumorino È che noi non capiamo Quanta batteria c'è ancora Lei giustamente Non cala pian piano Altrimenti noi Arriveremo a un punto In cui l'ago Non va più sotto pelle Ma a un certo punto Muore E noi non ce ne accorgiamo Non c'è modo di capire Quanto tempo abbiamo ancora È anche vero Che in una sessione Di 5-6 ore Faremo qualche pausa Quindi basta avere Il carica sotto mano E possiamo attaccare la macchinetta Oppure possiamo Tenere nelle zone Comunque Il caricatore Ben imbustato E collegarlo alla macchina Perché lei Lavora anche Con il caricatore dentro Ok Quindi è vero Non capiamo Quando si scarica Ma ci sono i modi Per far sì Di non restare a piedi Con la macchina Passiamo invece Ai pro di questa macchina Cos'è che mi piace Di questa macchina Sicuramente Il bilanciamento Del peso Perché il bilanciamento Del peso È davvero qualcosa Di straordinario Io non ho mai avuto In mano Una penna Wireless Di questa dimensione Che si sentisse Così poco in mano Che se guardiamo Un'altra macchina Sono più o meno Lunghi o uguali Ma qua abbiamo dentro Anche batterie E chip Cioè rendetevi conto Di quanto hanno fatto Piccola questa macchina L'hanno fatta bassissima Leggermente tozza Che non mi dispiace Nelle penne Misto che pesano un po' Bisogna avere Anche una bella Impugnatura Però bassissima E il fatto che sia bassa Davvero Lei in mano Non si sente Il comfort È davvero impressionante Quindi se riuscite A ovviare al fatto Che non si veda Il caricatore della batteria Se non vi dispiace Il fatto che non abbia Il grip monouso Ma volete auto Clavarvi il grip Va bene Ci sta Perché lei Ha davvero un bilanciamento Del peso Che è spaventoso Per le linee grosse Come quasi tutte le penne O tutte le penne Probabilmente Non è la morte sua Anche per un discorso Di peso Di eh Però Per tutto il resto Questa è un'ottima macchina Perché riesce anche A essere molto soft Ma quando serve Lei è bella potente Quindi mi piace Il feeling mi piace Il motore mi piace E come tatua mi piace Mi spiace un po' Per il display Ma per tutto il resto Questa è una buona macchina E teniamo presente Anche quanto costa Sul sito E ve lo dico Perché lo so che voi Andate a guardare A sbirciare Ci dicono che le linee Si possono fare Dal 6.5 Fino all'8 Il colore Sempre 6.5 7.5 E le sfumature Dal 5 Fino al 6.5 Ora Non sono molto d'accordo Sul fatto che il colore Dobbiamo dare lo stesso Voltaggio delle linee Solitamente le linee E le sfumature Hanno un voltaggio più alto Che è un colore Quindi provatela Vedete come vi trovate Sicuramente le linee E le sfumature Possono andare più o meno Alla stessa stregua Il colore Bisogna stare più bassi Quindi io direi 5 per il colore E 6.5 in su Per le linee E per le sfumature Quindi Ottima macchina Con un ottimo prezzo Con qualche compromesso Ma appunto Per il prezzo che ha Ci può anche stare Questa era la Tesla Me l'avete chiesta in tanti Siete venuti anche in tanti In live su Twitch A chiedermi Cosa io pensassi Di questa macchina Vi ho dato tante informazioni Spero di avervi detto tutto Se così non fosse Passate a trovarmi Comunque in live Appena questa quarantena Sarà finita Dove potrò rispondervi Ad altre domande Su questa macchina Mettete un like Se vi è piaciuto il video Se c'è qualcosa Di non chiaro Se volete chiedermi ancora Un qualcosa Fatelo qua sotto Nei commenti Condividete il video E iscrivetevi al canale Perché è importante Per la sua crescita E passate a trovarmi Anche in live su Twitch Qua sotto vi lascio Tutti i link in descrizione Per il momento Ciao e alla prossima